weyla eccoci qua con il nostro consueto bitcoin update bitcoin rimane in barra di congestione in teoria non ci sono problemi magari di parte magari no che sto dicendo sto dicendo che invece ci sono problemi dal lato del dollaro quindi questo bitcoin update di nuovo sarà proprio incentrato a maggior ragione sul dollaro ricordiamoci bitcoin usd bitcoin usdt il denominatore è il dollaro e comunque non è che il bitcoin è da solo in un mondo immaginario è in mezzo ai mercati e la situazione del dollaro qui si fa interessante nel senso pericolosa perché siamo partiti in apertura praticamente in gap up diretto se vediamo l'apertura questa notte no gap up diretto è anche bello aggressivo poi è andato a chiudere praticamente il gap ma invece di ritornare sui passi è partito è partito con un trend molto pericoloso praticamente perché abbiamo rotto i volumi principali che di cui eravamo sempre sotto qui magari poteva essere solo l'ultimo touch poi giù invece abbiamo distrutti da bene però siamo ancora diciamo nell'ultima resistenza mettiamo così perché comunque abbiamo distrutto il principale però è tutta una pancia e qui vedete ci sono vari punti in cui poi ha fatto anche l'inversione siamo nello stesso punto vedete punti comunque diciamo di potenziale inversione punto qua punto qua e soprattutto andando sul più vicino questo questo è pericolosissimo per ora lo stiamo rompendo con una candela però siamo sopra di niente quindi ancora non è sicuro al cento per cento però capite dopo c'è tutta questa inefficienza senza contare il fatto che lo possiamo tornati in area di top quindi è pericolosa la cosa adesso è un problema a capire cosa sta succedendo la prima cosa perché esiste perché noi stiamo comunque cercando un top cercavamo l'inversione per la questione sempre trimestrale no che qui c'erano le tempistiche diciamo per un trimestrale inverso siamo anche oltre praticamente sono equivalenti quando ci succedono queste lateralità qua diciamo che c'è partito qui partito qui i tempi si sfasano un po' può anche essere diciamo ci può contare semplicemente da qua ok e siamo a 95 giorni giusto se notare il fatto comunque ultimamente faceva dei cicli un po' lunghi per lo sfasamento che adesso vi spiego tutto allora quindi comunque anche se andiamo su andare long con la favore del dollaro è pericoloso perché può invertire da un momento all'altro no bisogna avere un po di conferma è chiaro che adesso dopo quando eravamo qui andare long cioè non andava da nessuna parte perché c'è anche questa resistenza al di là ciclica o non ciclica che sia c'erano tutti questi volumi qua c'è vado long sotto i volumi non ha molto senso no ovviamente s invece che li ha rotti ciclica non ciclica io a questo punto ciclica o non ciclica aspetterei delle conferme che infatti sto oggi secondo me conviene non fare niente vedere come chiude la canina giornaliera perché anche se non va oltre diciamo si ferma qua ma fa fa un ritest e niente siamo sopra i volumi si va long cioè questa è la sostanza cosa vuol dire andare long sul dollaro vuol dire che tutti i mercati vanno short quello del problema principale no vai long sul dollaro tutti i mercati vanno short perché il denominatore è il più forte è il denominatore di tutto e quindi e quindi e quindi e quindi però rimane sempre questa incognita allora questo top di trimestrale inverso a questo punto io secondare il top del trimestrale indice che dov'è c'è nel senso dov'è perché qui la situazione è che a questo punto stiamo andando oltre e questa rottura qua può anche cambiare tutte le view può fare aver aver fatto anticipare praticamente nella chiusura trimestrale qua aver cambiato praticamente le view ma perché si cambiano le due perché esistono i cicli non è un ciclo trimestrale che è classico non è sempre che esiste un periodo in cui degli investitori si posizionano mettono le posizioni iniziano a accumulare degli ordini distributivi accumulativi fanno fare un po' di finte pin pompa prendono un po di profitto eccetera perché hanno una view no è ipotesi che magari i plebei non hanno oppure loro hanno però una view di mercato insomma no e si posizionano i grandissimi capitali allora la view di mercato era se vedete qui fino a 29 gennaio la settimana prima del form che tutto quello che è successo la view era vedete guardate qua che se c'è scritto no che per il nel diciamo 50 e 50 i tassi venivano abbassati già c'è la probabilità che il 20 marzo i tassi venissero abbassati no e quindi che powell comunque andasse alla conferenza del form e dicesse o direttamente abbasseremo i tassi del 25 punti a marzo comunque stiamo pensando di abbassare i tassi 25 punti a marzo invece la conferenza di powell powell ha detto chiaro e tondo non ci sono i prerequisiti per abbassare i tassi se succede qualcosa nell'economia reale so qualche dato qualche crash classico allora valuteremo ma nei fatti per ora non abbassiamo niente e neanche probabilmente a marzo infatti vedete che è crollato no ha crollato sotto il 20 per cento quindi questo è già un cambiamento importante l'ultimo cambiamento importante guarda se prendono anche dal grafico qua di trading view è stato l'ultimissimo dato praticamente che è uscito alla fine della fiera che ha fatto fare quel pump quel pump qua questo pump qua vedete questo pump qua che però adesso sto continuando potrebbe essere anche sì pump finita la fiera e invece ora che sta continuando non ci sono più dati in arrivo va bene siamo in un'altra settimana ora è o è uno due giorni che sfoga e inverte o è cambiato il trend oggi domani bisogna vedere questa situazione cambiato il trend questo è l'ultimo dato sarà scritto qua senza che vada a cercare nei siti dove che era non far pay rolls no che praticamente c'era una previsione di 180 mila o nuove buste paga invece sono state il doppio cioè questo significa che l'economia va alla grande teoricamente ma andando alla grande andrà alla grande anche l'inflazione e non serve abbassare i tassi se l'economia va bene non serve abbassare i tassi ovviamente no quindi da un lato i mercati azionari tipo anche il nasdaq sono stati anche abbastanza bullish perché c'è sono in contrasto loro no diceva l'economia va bene noi vendiamo bene tutto va bene però qui non ci regalano più soldi facili e allora questo può anche andare bene per le grandi sorelle no per le big tech tanto loro che gli fregano cash flow infinito però non va bene per l'economia anche in senso futuro c'è nel senso se non abbassano i tassi e il dollaro rimane forte e tutto va giù sostanzialmente quindi adesso bisogna capire sta cosa capire innanzitutto se questo è l'ultimo movimento fake cosa tra l'altro possibile perché se noi andiamo comunque a vedere qui comunque insomma il top di un trimestrale sta in barra al top di un trimestrale ci sta che faccia l'ultimo spike e scenda però è chiaro che qui siamo in decisione troppo troppo indecisione io qui non farei niente a parte super intraday che non faccio comunque neanche oggi perché è pericoloso e bisogna capire qui cosa succede come sfoga perché per dire facciamo finta che è veramente l'ultimo movimento del trimestrale inverso ipotesi è facciamo finta sì chiaro però se mi rimaneva qua sotto se mi rimaneva qua sotto dici boh trimestrale inverso si crolla ok però se sì siamo vicini al trimestrale inverso hai capito però questo fa così fa così boom vabbè poi scende ma scende mi fa un retest e riparte anche un altro trend rimane sopra i volumi perché ho capito io la ciclica però poi bisogna vedere le grandi resistenze i grandi supporti eccetera adesso qui comunque anche se abbiamo messo un nasino fuori e mi sono spaventato e chiuso tutto però comunque questa non è ancora una realissima rottura al 100% no? e per questo dico vediamo oggi cosa fa va bene? perché comunque non siamo arrivati di nuovo probabilmente in area di top qui può fare metto il nasino e poi crollo va bene? scopriremo che vedete questo è anche un proprio un punto di inversione non è un punto a caso vedete anche più o meno qui che era il punto di retest cioè è un punto importante e anche qui comunque è un punto importante dove si è iniziato l'ultimo swing cioè mettersi sopra un nasino non conta niente bisogna romperlo ok? quindi vediamo sta cosa oggi domani io qui vorrei vedere anche con voi per capire meglio la situazione anche con tutti i vari asset contro il dollaro così cerchiamo di capire come siamo messi questo è molto scarabocchiato vediamo di capire allora qui teoricamente sull'euro sembra veramente che ci siamo vedete perché comunque qui ad esempio è qui c'è congestione diciamo dalla partenza è trimestrale 95 giorni siamo vedete su questo punto che è lo stesso punto che vi dicevo un punto importante e che cosa fai? shorty qui che può farti il mega rimbalzo non ha molto senso può essere un punto di inversione l'ultimo scarico prima di partire però è chiaro che se invece ti fa anche così però poi te lo rirompe e vabbè qui c'è qualcosa che è cambiato no? sterlina andiamo a capirci qualcosa anche sulla sterlina sterlina più o meno vediamo un attimo ad esempio da qui anche qui vedete più o meno siamo sul 96 giorni ci sta anche questo scarico anche qui lo yen che vabbè è la shitcoin delle valute qui bisognerebbe capire ovviamente il contrario vabbè qui guardiamo di nuovo l'inverso sostanzialmente vediamo se ci capiamo qualcosa qui c'è sicuramente un punto di inverso importante del 13 novembre e qui vedete era troppo presto qui fa un altro pump 83 giorni e anche qui tra l'altro siamo anche un po' in anticipo può fare una bella sgruppata ancora qui tra l'altro se non addirittura ritentare i massimi anche se fa il top del trimestre livello ritenta i massimi poi chiude e va effettivamente qui siamo però se vedete siamo tutti in linea sui potenziali fra un po' finisce cioè più che continuo a un trend che durerà mesi va bene diciamo che qual è che magari può essere stato il cambiamento che magari era già quasi finito e invece fa un ultimo scarico perché ci sono stati questi dati negativi togliamo un attimo di bandieruole e alla fine tutte le robe di breve le ho anche chiuse cerchiamo di capire altri mercati quindi Audi Audi è un mega testa spallone praticamente 47, 84, 100 anche lui effettivamente da indicazioni che fa l'ultimo scarico però può essere che ci siamo NZD che fa essere simile a Audi anche lui vedete 93 giorni ci siamo vedete perché non si va a long sul dollaro perché ci sta che sia l'ultimo scarico comunque il USDCAD il USDCAD è chiaro è molto simile al DXY chiaramente vedete anche lui sta rompendo qua però vedete che qui ad esempio il CAD è ancora sotto grave resistenza nei fatti cioè non è che è ancora successo niente beh il franco svizzero che comunque è sempre la valuta più forte in assoluto ci dà sempre delle indicazioni più più nette quale volte proprio sull'inverso qui abbiamo il 3 ottobre qui invece non ce la dà molto nette perché a questo punto vediamo l'indice qui ci dà un trimestrale partito il 23 ottobre andiamo a vedere il DXY il 23 ottobre esatto infatti guardate che allineamento infatti questo alle volte però più sull'indice in effetti sul franco svizzero perché essendo sempre di bassista e qui cos'è che ci dà sull'indice che è troppo presto qua però il problema è che qui sta facendo questa roba qui quindi sul top invece qui il top invece ce l'aveva già confermato praticamente sul franco svizzero e se ne va su sembrerebbe quasi che vincoli tutto a rialzo teoricamente però comunque non ce l'ha ancora fatta franco svizzero infatti vedete franco svizzero però è sempre tra i più forti chiaro che se vai a vedere quando fai pump se ti rompe le resistenze cioè magari non te le rompe lui però tutto il mercato si il petrolio vabbè non è una nostra valuta ok e qui insomma la situazione è mista adesso andiamo a vederci un attimo le cripto l'oro l'oro anche perché comunque è molto correlato anche al dollaro anche l'oro anche qui c'è poco da capire qui non stiamo comunque rompendo a ribasso questa è la sostanza torniamo dal DXY adesso vediamo veramente cosa potrebbe succedere alle cripto ok allora torniamo al DXY facciamo più un zoom più ravvicinato qui la potenzialità è sempre quella comunque rimane quella che qui stiamo andando a fare il top del settimanale inverso che si trasforma in top del settimanale inverso però è chiaro che fa il top fa il top fa il top non ci si può mettere short qua è pericolosissimissimissimissimissima l'ennesima potenza perché se anche poi dici sì vabbè ma domani inverte però se in 24 ore ti fa così ti brucia il conto capito? no quindi andiamo a aspettare qua andiamo a aspettare senza contare il fatto che siamo andati sopra i volumi e la cosa non mi piace onestamente però vedendo anche l'euro no eh sì volumi non volumi però guardate caso siamo proprio nell'ultimo baluardo nell'ultimo baluardo che tra l'altro qui non è neanche trimestrale questo era il mezzo trimestrale teoricamente quindi dell'euro qui qui è partito il trimestrale questo è il mezzo quindi vabbè non è neanche successo qualcosa di così grave senza contare il fatto che l'euro comunque anche loro hanno deciso di non abbassare i tassi la bce eh però questo comunque tra valute lo scontro prima di vedere i mercati allora i mercati andiamo poi finiamo sempre con le cripto e abbiamo il nasta che comunque insomma vedete rimane sano per ora rimane sano e ha fatto comunque una un spettino rialzista sugli old time high e questo ci sta che sia un buon retest cioè nei fatti non c'è ancora paura eh per il nasdaq eccetera però questi mercati qua come il nasdaq eccetera quando poi il dollaro inizia a invertire i pagari non sono correlati direttamente capito al secondo al giorno come il forex no che ovviamente è già lo scambio e la coppia ma all'improvviso si svegliano no va bene è come un segnale che dice oh cazzo qualcosa sta per succedere mercati sta lì tranquilli ne frena la sega poi un giorno si svegliano e dicono oh porca troia cosa sta succedendo e crollano va bene magari non subito immediato ma dà il segnale che bisogna stare molto molto attenti quindi andiamo a vedere anche bitcoin ciclicamente qui avevo già detto che effettivamente questa chiusura di settimanale era un po' sospetta perché era un po' troppo anticipata in effetti qui sta facendo ancora una barra allora anche qui però stai attenti alla roba perché se invece settimanale anche di bitcoin e quindi poi si corregherà col dollaro forte è realmente partito da qua e noi siamo ancora in barra e non riusciamo a salire e poi tra l'altro facciamo la cosa bellissima di finire qua sotto e sono cazzi amari sono cazzi amarissimi va bene quelli sono cazzi amarissimi anche perché poi giriamo il grafico vediamo l'inverso qui via sul settimanale qui è molto probabile che appunto qui sia partito invece qui è abbastanza quasi certo no vedete il movimento che è partito sto settimanale all'inverso tempo passa e non stiamo rompendo il massimo ok vabbè non siamo in barra e poi c'è un sacco di casini col mercato col mercato old quindi è comprensibile va bene però anche qui abbiamo la view che la ripetiamo la view che non dovremo farcela purtroppo qui c'è già un trimestrale vincolato al ribasso qui boh facciamo un altro stop infatti quanta fatica stiamo facendo a fare questo top vediamo vediamo boh perché comunque anche qui la questione del ok c'è il trimestrale del DXY ok inverte però poi però poi riparte un trimestrale indice per dire andiamo a vedere un secondo una delle coppie che era più più chiare di 2 euro la sterlina via giusto per avere una coppia che era relativamente chiara no qui abbiamo tutta questa view no che siamo a 100 giorni e si riparte va bene ma dov'è che era il top precedente perché il top precedente era qui va bene quindi si riparte per quanto tempo perché qui siamo già a 99 giorni cioè nel senso è molto confusa come cosa molto confusa sinceramente con tutte queste barre può cioè può succedere qualsiasi cosa sostanzialmente per questo quando può succedere qualsiasi cosa e si vive nell'incertezza è meglio aspettare certezze che vedere il conto bruciato per ora qua comunque sembra che finalmente forse sentiamo un massimo però siamo ancora prestissimissimo per dirlo anche perché qui come giornaliero molto probabilmente a questo punto ha fatto il top del giornaliero inverso da queste parti qui ops ha fatto qui non si capisce neanche tutto un trend andiamo a vedere ethereum come ha messo se ci da qualche informazione diversa allora ethereum anche lui la questione del settimanale chiuso qui era troppo in anticipo assolutamente troppo in anticipo quindi appunto allungato ora lui qua il segnale che è partito il settimanale ce l'ha tutto lui eh perché a differenza di bitcoin qui ha fatto già questa bella rottura quindi qui segnale di ripartenza secco c'è rottura vabbè retest se non perde questi minimi è un settimanale partito questo e l'indicatore qui più o meno vedete lo lo dà anche e qui sta rompendo di nuovo rialzo questo era secondo me l'ultimo movimentino però anche qui qual è il problema che non è che ethereum e bitcoin vivono da soli nel loro mondo magico se il dxy e il dollaro inizia a fare robe brutte si vengono massacrati anche loro la total la total è più o meno uguale a ethereum quindi ancora diciamo siamo relativamente messi bene qui molto probabilmente è partito il nostro trimestrale qui anche qui era un po' troppo presto questo settimanale qua anche perché io spero che sia un settimanale troppo presto e si è allungato un po' perché se è partito veramente qui settimanale ecco questa barra non è carina cioè nel senso perché parte un settimanale non siamo subito andati sopra non è bello nel senso allora forse c'è un altro settimanale è allungato e adesso è ripartito perché poi anche qui comunque anche la total vedete come ethereum un segnale l'ha dato un segnale l'ha dato vedete rottura anche se siamo scesi parecchio per colpa anche del dollaro vedete qual è il problema per ora sembra sana la cosa va bene qui come tempistiche è un mezzo giornaliero quindi teoricamente puoi anche fare così e poi ripartire ok ma riparte se e solo se qui dobbiamo capire cosa fa sto dollaro quello è il senso perché se dollaro prende e se ne va per la tangente abbiamo finito i giochi adios amigos cioè crash il galattico e ciao qui anche qui che comunque il nasdaq ha fatto retest qui però vedo che non sta tornando subito per i massimi quindi anche qui non benissimo qui c'è un giornaliero e qui dovrebbe esserci un altro perché non va subito di nuovo in area di top è perché c'è pericolo nell'area secondo me quello è vediamo vediamo il vix qual è l'indicatore di pericolo se ci dà qualche informazione in più in barra ovviamente non siamo più a livelli infimi ma è da un po' siamo su e giù ecco il vix per dire che anche lui è relativamente ciclico perché la paura è ciclica qui teoricamente ci potrebbe già confermare un top di trimestrale inverso e se va sopra qui cambia tutto cambia tutto e si inizia la paura seria che è quello che dicevamo che diciamo già da secoli che tra marzo e maggio potrebbero esserci delle marette va bene e l'ultima volta che c'è stata la marette è stata il 25 ottobre quella zona là tra per infine ottobre primi di novembre dov'è che era il dollaro fino a ottobre primi di novembre dov'è che era tata era qui vedete era fino a ottobre primi di novembre era tutta in area di top quindi è quello il senso o l'indicatore del DXY o l'indicatore del vix è l'indicatore che c'è qualcosa che non va bisogna aver paura attenzione va bene allerta infatti qui ha fatto anche lui un bello spike però siamo ancora messi bene con il vix perché il vix è comunque più correlato ovviamente ai mercati azionari i mercati azionari comunque col dato comunque che l'economia va bene sono un po' confusi cioè l'economia va bene però però i tassi non li abbassano però l'economia va bene sono ancora un po' confusi diciamo però poi quando le cose iniziano a mettersi male si capiscono anche loro e poi si dicono aspetta non sono più confuso faccio così va bene quindi ora oggi finché non si hanno conferme da questo DXY che cacchio vuole fare perché comunque vedete anche su tutti gli altri le altre coppie ci sta che sia il punto di inversione cosa fai? cioè vai short adesso? no perché come tempi ci siamo come livello ci siamo eccetera il punto è ti perde questo livello l'esempio l'euro è scivola scivola pesante quindi non si può fare niente bisogna aspettare eh anche qui lo yen ti rompe forte questo livello qua torna nelle aree di top cioè bisogna vedere un attimo la situazione io adesso se per ricapitolando per dire anche per vedere se riposizionarmi o no su bitcoin o ethereum perché per dire ethereum ripeto ha dato segnali di ripartenza questo è un segnale di ripartenza anche se fa un retest profondo non importa se tiene questo livello idem la total bitcoin già un po' meno ma l'ha dato anche lui un po' anche qui non sta rompendo però anche lui l'ha un po' l'ha dato se tiene questo livello vedi che riparte diciamo che uno vuole essere sicuro al 100% che è una ripartenza ti rompe questo top qui e entri ok va bene però rimane quella incognita adesso ad esempio qua il dollaro cosa deve fare ad esempio deve farmi vedere innanzitutto che scende ovviamente perché se no buonanotte non faccio niente no deve farmi vedere che scende inizia a scendere poi bisogna capire qui che cosa fa no magari ovviamente è una reazione questo questo dico addirittura due giorni ci vogliono qua per capirsi meglio ipotesi è una reazione no quando avrà la reazione e farà il nostro pallino qua rosa che è il top di giornaliero inverso lo farà qua su o lo farà giù e già qui abbiamo un'indicazione ok lo fa giù abbiamo già un'indicazione ritorna giù no e a quel punto bisogna vedere se ad esempio ti rompe il pallino azzurro qua ti rompe la lateralità eccetera e ci vorrà giorni per questo poi è chiaro che questo è l'esempio bearish no ma se ad esempio adesso qui non è ancora finita e questo continua a salire cacchio cioè innanzitutto bisogna essere fuori perché se fa questa roba qui buonanotte chissà che cosa succede a tutti i mercati se fa sta roba qui ad esempio è molto probabile che allora a questo punto ci mettiamo sotto qua ethereum bitcoin nasdaq no vanno sotto sotto dei livelli che qui è chiaramente partito un settimanale ti perde questo giornaliero ti perde questo livello inverte tutte le strutture di lungo periodo bitcoin si allinea con la view poi ad esempio se continua anche a salire anche se poi magari è l'ultimo impulso però poi ti inficia tutte le strutture perché qui è partito probabilmente settimanale o no resta il fatto che dopo se ti metti qua sotto che sta tentando di tenere e ti metti qua sotto e non è un spike ma ci sta un giorno eccetera ok e già va a farti l'inversione allora poi fa così magari fa anche così ma poi si va giù e si rimane la view principale che bisogna scendere per marzo o maggio va bene è pericolosa la situazione io aspetterò oggi mi sa che non faccio proprio niente guardo cosa fa il DXY e a seconda di quello che fa poi vedremo su Telegram e avviso sempre questo video è tutto e ci vediamo alla prossima ciao 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 ciao